Un patto di ferro tra PD, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Lega. Due terzi dei parlamentari saranno nominati, un terzo scelto attraverso preferenze. La legge elettorale in votazione alla Camera dovrebbe essere approvata dal Senato entro la prima settimana di luglio. Verosimile è un ritorno alle urne tra settembre ed ottobre, con una campagna elettorale, pinne, fucile ed occhiali. Non mancheranno proposte di modifiche e possibili sorprese. Il tema è quello dell'incostituzionalità, il quadro al momento è il seguente. Per la Camera Avellino sarà divisa in due collegi, uno con capofile Avellino, l'altro guidato da Ariano, ma che comprenderà una serie di comuni del Beneventano, collegio ampio e su base regionale per il Senato. Resta alto il rischio di ingovernabilità. Il tema, tuttavia, è un altro. Chi sarà candidato e come? In quota proporzionale, dunque nel listino bloccato o in quota uninominale, dovendo risultare il più eletto tra tutti i partiti per sedere in Parlamento. Diversi gli aspiranti in Irpinia, ma in queste ore potrebbe essere chiamato a decidere cosa fare prima degli altri il presidente della provincia, Gambacorta. Se decidesse di tentare la corsa al Parlamento, a luglio, in caso di elezioni anticipate, al massimo ad agosto, dovrebbe dimettersi da sindaco e presidente della provincia. Una ipotesi, certo. Di sicuro, più passerà il tempo, più aumenteranno gli aspiranti candidati. Nel PD si allontana l'ipotesi congresso provinciale. Roma sarà decisiva per la scelta delle candidature e accascata anche per la scelta del futuro sindaco di Avellino. Si vota il prossimo anno. Grazie a tutti.